Allora, a parte il fatto che sì, no il giocatore del Milan che sì, che sì, me sto a cacca sotto non fisicamente ma emotivamente per la partita di stasera che si fa sempre più vicina manca meno di un'ora Ma stavano giocando due partite di serie A, una di queste è Chievo-Inter che ho seguito più assiduamente, l'altra che era Parma-Bologna che stanno 0-0 chissà che palle Per chi se l'è vista e per chi le tifa, ciao bella a tutti da me, ho appena fatto il video perché Real Madrid ha vinto il campionato del mondo, il campionato del mondo per club La coppa del mondo, il mondiale per club, e vabbè se volete andare a guardare prima che cominci la Roma, guardate prima questo Però ha pareggiato il Chievo! Pellissier ragazzi miei, ma Pellissier che cazzo del giocatore, aveva fatto pure la rovesciata, è stato quello che ha impensierito di più l'Inter, secondo me quello che ci ha creduto di più Una vecchia bandiera, uno che gioca col coltello in mezzo ai denti, uno che ha gli occhi della tigra, e mi ricordo quanti cazzo danni c'ha, ma per essere un calciatore ce n'ha abbastanza Io gli voglio fare veramente i complimenti, si è inserito il pallonetto, il pallonetto che sta condannando l'Inter al pareggio Ovviamente da tifoso della Roma ragazzi, a me va bene così, è ovvio e normale che sia così, ma noi stasera dobbiamo giocare con la Juve, quindi molto probabilmente non ce porteremo manco un punto a casa Non vorrei cufarla ma ce sto a provare Quindi l'Inter che, stavo a far video e dico come ho, gli faccio vedere la classifica in diretta e dico che comunque l'Inter alla fine sta a macinare e sta a seguire il passo Non ho fatto un tempo a dirlo, eccolo qua, 33 punti quindi l'Inter, stava a 35 fino a un minuto fa Lazio a 28, quarta in classifica, vabbè Juventus a 46, ha vinte tutte, tranne il pareggio col Genoa Napoli che comunque tiene e segue il passo per il momento, 41-5 ma con una partita in più Sta a risalire tutto, Milano che ha perso a 27, Sampdoria a 26, a Romanzi sa dove cazzo sta Chievo Verona che ci sta a credere, ah fammi vedere Chievo a sto punto Che sta a ultimo ma a 5 punti, gli cambia poco il pareggio ragazzi Chievo, gli eserve nascosta, deve cominciare a vincere ma è ovvio che con l'Inter non poi pretendete vincere È assolutamente ovvio che tu, se ti riesci a portare veramente a casa sto pareggio, attenzione perché Icardi Sta a succedere tutto verso la fine Te porti a casa un pareggio contro l'Inter, comunque è un punto importante Fino a ora hai fatti 5, uno hai fatto con la Roma, uno hai fatto con l'Inter, l'altro non mi ricordo con Napoli forse Cioè qui si pareggiano solo con le big, sto a una memoria, può essere pure me sbaglio Mi fate sapere voi che cosa ne pensate nei commenti? Perché ragazzi, dovesse vincere la Juve Il Napoli sta a fare da Spartiacqua La Juve sta a fare da Spartiacqua, il Napoli sta a fare da Spartiacqua Sotto lo Spartiacqua e lo Sparti... Io non ci sto a capire più un cazzo comunque Un qualcosa di veramente incredibile Parma e Bologna che rimangono sullo 0-0 Bologna quindi che resta terzo ultimo a 14 Mogufo pure quella, guarda che arriva il gol E Parma a 22 punti Comunque sta a fare un signor campionato Mi permetto di dirlo perché 22 punti ragazzi Il sesto posto è a 26 Il quarto è a 28 punti Stanno a meno 6 praticamente Veramente tanta roba Io voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti Mi raccomando fatemelo sapere perché io mi sto a caga sotto Che devo andare a vedere la partita della Roma Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al mio canale Qualora non lo esse ancora fatto Credo che da un minuto extra Perché è successo qualcosa Comunque a livello tecnico A livello di partita L'Inter ha fatto quel qualcosa in più È ovvio che sia così Aspettate che l'Inter ci sta a provare fino all'ultimo Guarda che la buttano dentro Mi sa che era un fallo di mano No, non glielo dà Ultima palla in rete Ultima palla verso la rete Mo segnano Ultima palla verso la rete Perché ha fermato tutto? Vai, batti Vediamo Gittata lunga No, non ci arrivi Versalico Guarda che tunnel Oddio Non ci sta niente No, Borca Valero non si è lamentato No, lo fa ancora Fa ancora continuare Incredibile Comunque dicevo Inter che Che ha fatto quel qualcosa in più Ma alla fine ragazzi Se vince ai punti Come cazzo si dice Hanno pareggiato E questo è quanto Che ha fatto? Silent check Ah, sta andando a riguardare la mano Perfetto Un video che doveva durare Tre minuti e mezzo Durerà come al solito Novantasette minuti A me mi sembrava una mano comunque Ah no Sì mano Buonanotte Ma che sto di Stavo a pensare un'altra partita Fallo? Perisic Sta di Che cazzo dobbiamo fa? Fa freddo? Eh, aspetta Che palle Oh, i video Nel frattempo È finita Parma-Bologna Quindi è finita 0-0 Alla faccia dello spettacolo Aggiungerei Un punto che Non fa male a nessuno Forse fa un po' meglio al Al Parma che al Bologna Bologna avrebbe dovuto provare a vincere Ma quest'anno il Bologna Non riesce Mi sa secondo 0-0 di filo Dopo quello col Milan Vediamo Quello che succede E quant'altro stacco tutto Sto a preparare la videocamera Per fare la live reaction Per più tardi Ovviamente Vediamo No, da qua sembra andare sulla palla Però Ragazzi Non è l'angolazione giusta Cioè Serve una visuale da davanti Non da dietro Niente Fa batte E non c'è assolutamente nulla Non vorrei che ci siano discussioni Perché Ecco là Appareggiato Fatemi sapere che ne pensate Ragazzi Incredibile